20 anni di storia, 4 giornate e 2 testimonial. Il paese dei Balocchi scalda i motori per tornare dal 17 al 20 agosto in piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano. Quest'anno l'evento vedrà la partecipazione del noto giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone, che salirà sul palco centrale nella serata inaugurale, e del cittadino onorario Fabrizio Macchi, atleta di punta del paraciclismo italiano, che sarà presentato al pubblico lunedì 19 agosto alle 21.30. La domenica invece vedrà protagonista il chirurgo vascolare Gabriele Pagliariccio, mentre martedì 20 agosto si terrà l'incontro con il fanese Luca Lepri, che ha avviato diversi progetti per sensibilizzare sul tema della cecità. Presidente, dunque ospiti illustri anche quest'anno? Sì, ospiti illustri, abbiamo come sempre un parterre interessante e anche importante. A cominciare dal sindaco Domenico Iannacone, giornalista di Rai3, con il suo programma che ci faccio qui, sindaco del paese di Balocchi, scelto perché parla molto spesso, racconta le storie di persone che hanno avuto problemi e che hanno virato in maniera coraggiosa e magari sono diventati esempi anche per altre persone. A raggiungere 20 anni per una manifestazione è un grande segno di vitalità, è anche un grande segno di tante persone che si impegnano, soprattutto in questo periodo di vacanze. La manifestazione comunque ormai è uno spazio molto importante dal punto di vista anche turistico per la città di Fano, perché comunque molte persone vengono da fuori proprio per la manifestazione. Quali saranno le trattive? La balena, dove i bambini possono entrare, la casa di Geppetto e la casa della fata Turchina. Ciclotto torna e confermato? Ciclotto torna con la sua giostra a pedali. Poi quest'anno sarà il quinto anno di opera collettiva, grazie all'artista fanese Giovanni Piccini, quindi ogni anno abbiamo costruito 10 metri di pittura su Pinocchio e raggiungeremo i 50 metri, che è una bella lunghessa per un'opera. Tante poi le collaborazioni? Noi abbiamo la collaborazione chiaramente con le istituzioni pubbliche, la Mediteca Montanari, l'ASE, alcune anche private, che è la TECFEM, che è molto attiva nel campo delle energie rinnovabili. Immancabile è anche l'appuntamento con Spazio Slurp, l'iniziativa dedicata all'educazione alimentare dei bambini. Novità di quest'anno sarà Don Pasta, un'occasione per dimostrare che fare la pasta a mano richiede solo pochi minuti. L'associazione Apito invece porterà un laboratorio pittorico e creativo dove dare vita a costruzioni fantastiche e colorate, ma saranno tante le associazioni del territorio che proporranno laboratori e giochi. ASET in tutti questi anni è sempre stata vicina al paese dei balocchi, è sempre stato un partner perché ritiene questa manifestazione di grande utilità da tutti i punti di vista, anche da quello educativo e proprio per questo noi faremo dei laboratori per i bambini a proposito dell'educazione al consumo responsabile di una risorsa importantissima, poi in questi giorni lo stiamo vedendo, come l'acqua. Pensiamo che i primi attori di questo cambiamento culturale possano essere i bambini e i ragazzi. Presenti in conferenza stampa anche il sindaco e gli assessori Santorelli e Tarsi, che hanno sottolineato gli aspetti sociali e culturali dell'evento, un modello da esportare anche in altre parti della città. Sì, non era stato previsto un finanziamento dalla precedente amministrazione, quindi come giunta abbiamo deciso di aderire e sostenere in maniera importante il paese dei balocchi. Il paese dei balocchi che ha raggiunto 20 anni ed è un'iniziativa fondamentale per la nostra città, una delle più importanti a mio avviso, e che ogni anno riesce a rinnovarsi e anche a sviscerare tematiche importanti, come ad esempio quella di rimettersi in gioco e quindi rialzarsi anche da tante difficoltà che tante persone hanno avuto o che stanno avendo. È un'iniziativa importante che mi piacerebbe esportare anche e far contaminare tutto il resto della nostra città, perché vedere la faccia dei bambini, delle bambine, delle famiglie al paese dei balocchi penso che sia l'iniziativa più importante che tante famiglie aspettano in tutto l'anno. Quindi è importante veramente far sì che il paese dei balocchi, che continui a esistere, soprattutto riesca a contaminare tutto il resto della nostra città.